Ma è che di solito continuano a fare domande, quindi la macchina c'è qua qui. Potrebbe essere di origine dolosa, Rogo che ieri sera ha distrutto gran parte di due piccole imbarcazioni in disuso al porto di Fano. E' accaduto intorno alle 20.15 nell'area in concessione a Marina Group, una zona adiacente al punto in cui sono partiti i lavori per realizzare la nuova strada e i futuri capannoni. Ancora oggi era possibile sentire il forte odore di fumo in tutto il lungomare mediterraneo. Secondo la società che riunisce imprese della canteristica e della pesca e che ha la zona in concessione, si tratterebbe di un atto vandalico perché a differenza del passato dicono ora non ci sono tensioni all'interno del porto o almeno così sperano. Ma ecco invece la testimonianza di un ragazzo che quando è divampato l'incendio stava lavorando alla guardiola all'ingresso di Marina dei Cesari. Mi sono accorto che c'erano le fiamme nel piazzale di fianco alla capannone di Stefanelli. C'era un gran fumo e delle fiamme diciamo di 3 o 4 metri di altezza. Ma le imbarcazioni sono andate a fuoco in momenti differenti? E' andata a fuoco prima un'imbarcazione di circa 6 metri, 5 o 6 metri di lunga e di fianco c'era un'altra imbarcazione quindi di conseguenza ha preso fuoco anche l'altra di fianco. Penso che sia un incendio doloso credo. Comunque non c'è elettricità in quelle barche, sono barche in secca quindi non credo sia possibile che sia un incendio dovuto da qualcosa di elettricità insomma. Poi abbiamo allertato i visiti del fuoco e sì c'era un altro signore vicino a me e abbiamo fatto i visiti del fuoco e sono arrivati diciamo subito 3-4 minuti. Oltre ai pompieri sono intervenuti per accertamenti la capitaneria di Porto e i carabinieri che indagano sull'accaduto per capire le motivazioni e scoprire eventualmente i responsabili. Ad essere ascoltato dai militari anche il clochard che bivaccava abitualmente su una di queste barche. Non escluso infatti che le fiamme possano essere state provocate anche in modo accidentale dall'uomo ma al momento del colloquio era visibilmente ubriaco e quindi non credibile.